Parte ufficialmente la gara per il trasporto pubblico locale in Toscana. La gara, che sarà ad ambito unico regionale, ha preso il via con la firma, nella sede dell'assessorato ai trasporti, di una convenzione tra le parti coinvolte, e cioè Regione, rappresentanti delle province e dei comuni che hanno già deliberato. Gli altri firmeranno nei prossimi giorni, con la quale si incarica la Regione a portare avanti tutte le attività necessarie per arrivare alla nuova gara, con la quale il trasporto pubblico locale sarà radicalmente trasformato, ma che rappresenta l'unica via per salvarlo dal fallimento. Con questa firma, di fatto, noi salviamo il trasporto pubblico in Toscana, visti i tagli che sono stati fatti dal governo e che si ripeteranno con le prossime manovre annunciate. Abbiamo bisogno di un trasporto pubblico che sia un elemento ancora di forte legame con caratteristiche sociali e per fare questo anche la parte industriale si deve rafforzare. A questo punto i tempi per arrivare al bando diventano più certi. Dovremo entro l'anno predisporre gli atti per arrivare alla gara. Questo è ciò che abbiamo stabilito condividendo un percorso e stiamo lavorando anche con riunioni che sono fissate in maniera molto assidua per arrivare a questo obiettivo.